Sostenere e valorizzare il mondo dell'apicoltura Umbra. È questo l'obiettivo di Mieli in Umbria, la rassegna dedicata al miele e agli apicoltori, in programma sabato 19 e domenica 20 novembre a Palazzo Trinci, a Foligno. La rassegna, promossa dal Comune, realizzata con il sostegno del GAL Valle Umbra Sibillini e organizzata dall'Associazione Produttori Apistici Umbri e dell'Agenzia Anna Sette Poste, Eventi e Comunicazione, è giunta alla sua ventiquattresima edizione. Ci saranno un convegno di approfondimento, la mostra a mercato con la presenza dei produttori nella corte di Palazzo Trinci, show cooking, visite guidate, laboratori di apicoltura riservate ai bambini, ma anche eventi legati alla degustazione del miele. Nel corso della presentazione della manifestazione, che si è tenuta martedì 15 novembre all'interno del Palazzo Comunale di Foligno, l'assessorella turismo Michela Giuliani ha sottolineato che la rassegna è un evento unico nel panorama regionale e va nella direzione di promuovere l'apicoltura e proprio prendendo ispirazione dall'operosità delle api, abbiamo organizzato visite guidate per scoprire gli antichi assi produttivi della città. L'itinerario prevede anche la visita alla cereria. Luca Ciampelli, presidente dell'Associazione Produttori Apistici Umbri, ha ricordato l'importanza dell'appuntamento perché ci sono incontri tecnici, ma c'è anche spazio per chi si vuole avvicinare al mondo delle api. Nel corso di Mieli in Umbria ci sarà la possibilità di far conoscere ai più piccoli il ruolo delle api, che sono al servizio della biodiversità. Previsti infatti i laboratori che vanno dall'abbinamento tra miele e formaggi, maschere al miele per il viso, piccole ricette con miele e spezie. In programma anche lo show cooking Strani Amori, luna di miele per verdure di tardo autunno. Il miele come sorprendente complemento per le verdure di stagione. A cura di Gigi Lamousse, food writer, autrice e personalità televisiva.